Un vulcano in eruzione, restato sempre avanti, anche nel fallimento, così come il mondo, anima in tormento, per naturale disposizione, vada come vada d'azione, mai arreso, morto, immortale, nessuna formazione normale, capace d'essere intellettuale, insieme all'umore sprofondato, inabissato nei cimiteri di fuoco, senza sapere, tra le fiamme, quel che Lucifero ha scritto, in paradiso iscritto e cancellato, nei rimpianti strani del passato, fiabesco, straziante, cotto, fritto, ingegnoso, esuberante, espressivo, con un lungo naso disutile in ogni caso, capolavoro fallito, disponibile, redivivo.